I pantaloni hanno le tasche, hanno le pens, hanno l'elastico, regalati a 90 euro al completo, non aspettate amiche, non aspettate amiche, eh? 90 ho fatto, va bene così, dedicate a voi 39 euro, bisogna toglierli subito, mi date la taglia e io ve li tolgo. Vedo già le prime chiamate, non aspettate amiche, perché sono favolosi, guardate, alzano il culetto, alzano il sederino, sono sottili, ovviamente sono estivi, a sigaretta quindi stretti in fondo, con lo zirconcino sulla tasca, regalati amiche a 39 euro. Se aspettate amiche, fate un errore madornale, perché è un jeans che potete mettere con tutte le t-shirt, con tutte le camicie, con tutte le sneaker, con tutti i tacchi, con i decoltè, con le zeppe, i sandali, con tutto. Bellissimo, allora la camicia da sola costa 45, la gonna da sola costa 59, mi sembra, aspettate che ve lo dico. 59, tutto il completo amiche ve lo lascio ad 80 euro, gonna più camicia, se no 59 la gonna, a balze e con la sua, vedete, col suo bordo alto, camicciona, scampanata, con maniche, vedete, scampanate, regalata amiche a 50 euro. Una camicia, amiche in cotone, favolosa, 80 euro il completo, non aspettate, correte, sono bellissimi. La gonna è unica, camicia la posso riassortire, ce l'ho in diversi colori. 80 euro il completo, non aspettate, 140 di giro seno, con una manica importante, 80 euro per voi. Non aspettate, correte a confermare, sono favolose, sono tutte cose particolari ed eleganti che vi fanno la differenza. Sopra potete abbinare una giacca tipo anche quella righe da 65 che vi ho fatto vedere prima, sono tutti regali amiche che portate via, perché sono cose particolari, elegantissime, favolose, correte a confermarle adesso. Sono cose amiche nuove, belle, idee, idee pazzesche, super scontate. Non aspettate amiche, ve lo dico, sono favolose amiche. Io vi dico una cosa, le camicie le indossate per sempre, nel senso che avere una camicia un po' elegantina nell'armadio non vi fa che aiutare a creare dei look particolari. Io non trovo il buco, Manny. Sono regalate, hanno un prezzo eccezionale, sono fatte bene, sono molto carine, sono di grande qualità e hanno un prezzo incredibile amiche, 45 euro. Guardate che bella, guardate che eleganza. Non aspettate, correte a confermare. Allora, nera, panna e glicine. 45 euro. Bellissima. Sì, assolutamente sì. Grazie amiche, favolosi. Scegliete il colore, sono quattro pezzi unici. 45. Prezzi amiche che non voglio nemmeno ripetere. Azzurro, sì. Azzurro via per la signora, vi indosso il verde, siate veloci perché sono regalati. 45 euro dovete essere scatenate. La tempestata di Svaroski. La tempestata di Svaroski. Guardate che spettacolo, favolosa, elegantissima. Con le tasche, tutte di Svaroski, collo tutto di Svaroski. 120 euro, tutti i bottoni sono bottoni gioiello. Alla prima telefonata la portate via a 65 euro. 50% scontata, guardate che camicia pazzesca, guardate che eleganza e che qualità. 65 euro per voi. Ripeto, jeans sottile, questa volta chiaro. Tasche tempestate di Svaroski. Luxury collection. Favolose, eleganti e raffinate. 65 euro. Non aspettate amiche, pezzo unico. Taglia 125. È un amore. Guardate che completi. 45 euro. Amiche, sono opportunità da non perdere. Certo, assolutamente sì, eccola qua. Camicia bianca che indossavo prima. Scampanata bellissima. Un cotone, una favola. No, 52 no. Grazie amiche, correte. Allora, la mia t-shirt, tutta di Svaroski, modello Balenciaga, Paris, favolosa. È scontata, amiche, da 99 euro, tutta di Svaroski. Con la scritta Paris, veste fino a 125. È scontata a 45 euro. Favolosa. Solo nera, eh. 35, veste fino alla taglia 50. La giacca nera la indosso subito. 45 euro, correte. 45 euro. Ne ho 10. Viola, verde, acqua, panna e nero. Manica a tre quarti, 45 euro. Volate a confermare, amiche? Eccezionale, un completo pazzesco. Modello Missoni, strepitoso, regalato a questa cifra. Non aspettate. Parliamo di casa. Via 1. 9 pezzi, amiche, grazie. 9 possibilità. Fantasia geometrica, con un B, un Tris, un Quatris di colori. Verde acqua, panna, nero, viola, regalati. 8 pezzi, amiche, correte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.